C'è chi dice che di letteratura non si campa, di cultura ancora peggio. C'è invece come me chi dice sti cazzi, quello che conta è comunque lanciare un messaggio al mondo. Probabilmente ci sarà qualcuno che lo ricipirà e probabilmente ci sarà qualcuno che si sentirà per un attimo più ricco dentro. Allora, questa introduzione per dirvi cosa. Vi sto presentando non un mio libro, non una mia pubblicazione, che tra virgolette a dicembre vi ricordo uscirà, ma vi sto presentando qualcosa che forse mi coinvolge ancora di più. E non perché ho scritto la prefazione, ma proprio perché ci ho messo la faccia. Insieme a un mio amico, che è amico, conoscente, collaboratore, è anche amico, che è un grafico di livello straordinario, abbiamo deciso di resuscitare il vecchio marchio The Creepy Books, che era il nostro, tra virgolette, blog, col quale a suo tempo sperimentammo la pubblicazione di un racconto di, se non mi sbaglio, 18 pagine di un ragazzo, che andò pure estremamente bene, per fare cosa? Per ritornare a, questa volta molto più seriamente, in modo molto più convinto, a pubblicare. Ma perché ci è venuta questa idea? Perché l'autore del libro, che è un amico, secondo me meritava un'occasione. Però, prima di andare ai fatti, di cosa stiamo parlando? Poema Nero, firmato Alessio Miglietta, marchiato The Creepy Books. Miglietta è oramai un amico. Io come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto perché è un ragazzo che seguiva questo canale, mi ha iniziato a scrivere, a fare una persona molto a modo, molto educata, molto composta, chiedendomi consigli, più o meno interessanti, e chiedendomi anche perché dobbiamo essere ipocriti. Se conoscevo qualche casa editrice, lui aveva già pubblicato, però cercava una casa editrice che lo pubblicasse, che gli desse la possibilità, che cosa? Un poema. Ora capirete bene che nel 2023, alle porte del 2024, con quello che attualmente è il mercato, promuovere un poema, cioè un romanzo in poesia, è arduo. Specialmente come nel caso di Alessio, perché praticamente non è solo un poema, perciò già una cosa di importante, ma è anche un poema estremamente dark, estremamente depressivo, che tanto deve alle influenze, tra virgolette, all in black, del Milton di Paradise Lost. E quando vi dico che tanto deve al Milton di Paradise Lost, andatevi a vedere nelle mie playlist, la mia è una delle ricercize più viste in Italia su YouTube di Milton di Paradise Lost, capirete quanto io posso amare quel poema. Dico ciò perché lui, dopo un po', me l'ha mandato per leggerlo, e io sono rimasto veramente entusiasta, ma parliamo di mesi fa. Dov'è che, con grande onestà, gli ho detto, guarda, tu mandalo. Ah no, prima mi ha chiesto di scrivere la prefazione, io l'ho scritta. Dopodiché gli ho detto, senti, con grande onestà, secondo me è impubblicabile, non te lo pubblica nessuno perché sono 500 arrotte pagine, siamo nell'era del consumo a subito, la maggior parte dei lettori sono pigri, vogliono cose molto brevi e quando si tratta di proporre qualcosa di veramente figo si tirano un po' indietro. I lettori italiani e le lettrici italiane attualmente puntano su stronzate tipo romance, racconti young adulto, si leggono fondamentalmente zero calcare, non è che si leggono Joyce, perciò vacci coi piedi di piombo, secondo me, speranze zero. Lui l'ha mandata a un po' di casa di lettrici e ha avuto qualche riscontro, ma del quale ogni volta mi rendeva edotto estremamente triste. Lasciamo stare quello che gli dicevano, quante copie ti compri, va bene, lasciamo stare chi gli ha detto per pubblicarlo mi devi dare X, ok. Ma ha preso e qualcuno gli ha risposto sì, però tu a livello social come stai messo? Un altro gli ha detto quante copie mi garantisci di farmi vendere? Un altro gli ha detto bello, ma parliamone. Non vi scordate mai che io ho fatto due video nel quale dico come vi per culo le case editrici, dove vi ho dimostrato che anche mandando Joyce o mandando pound, le case editrici non sanno di cosa parlo, però diciamo che lui l'ha mandato in giro. Qualcuno, se non mi sbaglio, gli ha anche detto è troppo lungo e quello me l'aspettavo. I pochi, secondo me, che l'hanno letto gli hanno detto è troppo lungo, 600 pagini. Quasi 600 pagini. Allora che parlavamo pochi giorni fa e lui era un po' giusto e diceva sai, io lo vorrei mettere da parte a questo punto. Consiglio che devo dire la verità, io l'ho dato pure io. Ho detto sei bravo come poeta, ho letto le tue cose, cimentati di più in sillogi, fa una sillogi di 60-70 pagine, comincia a ricimentarti nel mercato con quello, però io conoscevo il valore di Poema Nero, ovvero questo Poema Nero, piccolo capolavoro. Ma non sapevo come aiutarlo. A un certo punto io ero in mente di idea, chiamo questo mio collaboratore amico che cura tante cose pure del canale e gli dico senti tu come la vedi a rimettere in piedi il logo di The Creepy Books, lavorare sulla grafica, impaginarlo, pubblicarlo e dargli una mano nella promozione, dargli una mano nel fargli fare perciò qualche intervista, organizzare qualche presentazione, cioè dare una possibilità a questo testo facendolo poggiare sul nostro marchio per aiutarlo. Lui, al quale già avevo fatto leggere a suo tempo Poema Nero e non gliela dispiaciuto per niente, mi ha detto guarda io ci sto, la modiamoci sopra. Vabbè, morale della favola, alla fine siamo arrivati qua. In versione ebook, copertina flessibile e copertina rigida con un artwork diverso per renderla più accattivante. e sono stracontento, no perché mi preoccupo di quante copie venderà il libro perché tengo a precisare al netto di quelle che saranno le eventuali tasse da pagare su Amazon ve lo dirà lui stesso perché prima o poi farò un video nel quale ve lo presenterò io e il mio collega non ci prendiamo royalties cioè è stato proprio un atto di generosità ma nei confronti di qualcosa che noi siamo convinti che vale tanto e lui ora è felice ma più felice di lui sono io credetemi sono veramente io perché parte la copertina elegantissima bellissima mi ricorda un po' certe cose di eroi no? Sono poco contento di aver lavorato bene su un lavoro che già conoscevo non aveva bisogno che ci venisse messa mano sopra perché poi stiamo parlando di un poema perciò non è narrativa che vai a fare un editing di cosa tratta di cosa non tratta quest'opera credetemi Alessio prende il Milton di Paradise Lost senza alcun riferimento politico perciò il Milton più mistico di Paradise Lost e lo somma o anzi lo somma è una terminologia sbagliata lo violenta lo modernizza lo porta nei nostri anni e lo condisce di tutti quelli che sono i mali del nostro tempo solitudine aridità tendenza al suicidio dolore malattie tutto è un concentrato metafisico del nero più nero che si possa immaginare ecco poema nero è un'opera che non lascia un filo sia chiaro non lascia un filo un alito uno spiraglio di speranza all'essere umano è proprio qualcosa da cui trasuda tantissimo il pensiero del pessimismo cosmico di Schopenhauer tanto per internerci però è scritto pur essendo un poema in modo moderno accattivante non è quella prosa barocca antica fatta di rime baciate no è qualcosa anche di cattivo di graffiante che sa come penetrarti ecco questo è poema nero un capolavoro e non lo dico perché l'ho pubblicato io con The Creepy Books non guadagnando c'era anche niente ma veramente per puro piacere di dare la possibilità a qualcuno di farlo ma lo dico proprio perché l'ho fatto perché ci credo e vi invito a tutti abbiamo fatto la versione book apposta al minimo perché poi sono quasi 600 pagine perciò l'abbiamo messo a 4,99 vi invito a dargli una possibilità e anche se non lo volete comprare cioè a parte che se siete abbonati su Kindle Unlimited lo potete leggere gratuitamente fondamentalmente perché fa parte dell'abbonamento che avete sottoscritto ma ove non vi interessasse comprarlo e fosse solo curiosi vi basterebbe leggere la copiosa anteprima che avete a disposizione e sono sicuro che chiunque di voi ama l'arte nel senso più alto del suo termine poi alla fine lo comprerà e dirà cazzo c'avevi ragione ecco questo era quello che vi dovevo dire poema nero di Alessio Miglietta marchiato The Creepy Books ne vado proprio fiero uscito in ebook copertina flessibile copertina rigida ripeto lo voglio dire fino allo sfinimento non ci guadagno niente i soldi andranno tutti a lui perché se li merita ed è giusto che sia ripagato per tutte queste porte in faccia perché per me merita poi se va bene chi lo sa magari potrebbe venirmi in mente di dire sai che c'è con la cultura non si mangia adatto però neanche ci si perde